Rocco Papa Leoporti in scena divertissima in Tattore Maggiore nel suggestivo belvedere della Villa Comunale Federico II. L'artista di origini lucani ha incantato il pubblico con il suo trio acustico con uno spettacolo originale, in collaborazione con Walter Lupo. È un diario che racconta storie divertenti che nel frattempo fanno riflettere. Purtroppo per le avverse condizioni del tempo lo spettacolo si è dovuto interrompere. Un evento organizzato dall'assessorato alla cultura e dal teatro pubblico pugliese. Ma ascoltiamo Rocco Papa Leoporti nel suo intervento ai microfoni di Tele Radio Torre, poco prima di salire sul palco scenico della Villa Comunale. Come diceva Claudio, sono Rocco Papa Leoporti e sono un attore, ma anche mi arrangio un po' a cantare. E questo spettacolo che presentiamo stasera è un po' misto di racconti, canzoni, poesie, un po' divertente e un po' spero anche emozionante. Un grande abbraccio a tutti i radioascoltatori di Tele Radio Torre.